carissimi fratelli carissime sorelle amici cari pace dio benedica la vostra vita oggi è 2 aprile e leggiamo insieme nel primo libro di samuele al capitolo 12 al verso 24 dice la scrittura solo temete il signore e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore considerate infatti le grandi cose che egli ha fatte per voi siamo alla fine del servizio svolto da samuele in mezzo al popolo di israele è stato giudice per diversi anni l'ho fatto con fedeltà non cercando i propri interessi ma cercando sempre di onorare il signore di fare ciò che era giusto alla luce della volontà di dio il popolo chiede un re la cosa dispiace a samuele dispiace anche al signore però il signore dice a samuele fai come loro ti chiedono e provvede un re saulo un uomo alto forte bello dice la scrittura che viene subito accolto come tale da parte del popolo e samuele prima di lasciare il suo ufficio decide di rivolgere un'ultima esaltazione a quel popolo affinché considerato che ora avrebbe avuto un re come tutte le altre nazioni non riponesse la propria fiducia solo in questo re ma potesse continuare a temere il signore a servirlo con tutto il cuore senza dimenticare tutte le cose che il signore aveva fatto per loro e credo che ancora oggi noi abbiamo bisogno di ascoltare questa esaltazione un'esaltazione a temere dio timore non è paura perché chi ha paura teme un giudizio ma non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in cristo gesù e quindi se siamo salvati noi non abbiamo paura di dio ma timore sì riverenza sì dobbiamo realizzare che siamo al cospetto del creatore del cielo e della terra dell'onnipotente e quindi tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare con sacro timore dice la scrittura in deuteronomia capitolo 10 al verso 12 e ora che cosa chiede da te il signore il tuo dio se non che tu lo tema che tu cammini nelle sue vie e che tu ami e serve il signore il tuo dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua cosa disse giosuè al popolo prima di lasciare il suo ufficio avendo portato a termine l'incarico che il signore gli aveva affidato temete il signore servitelo con integrità e fedeltà togliete via gli dèi ai quali i vostri parri servirono al di là del fiume in egitto e servite il signore ascoltiamo quindi la parola di dio ascoltiamo l'invito che c'è nella parola del signore di temere dio non lasciamoci prendere dal modo di fare di questo mondo spesso il riverente nei cospetto del signore ma viviamo nella riverenza dovuta a colui che ci ha talmente amati da dare il suo nigenito figlio affinché noi potessimo essere salvati l'ecclesiaste uomo saggio dopo aver spesso la sua vita nella malità alla ricerca della felicità senza però mai riuscire a trovarla concluderà il suo discorso dicendo lo leggiamo in ecclesiaste 12 15 temi dio osservi i suoi comandamenti perché questo è il tutto dell'uomo sì dobbiamo temere il signore perché come dice pietro se invochiamo come padre con lui che giudica senza favoritismi secondo l'opera di ciascuno ci dobbiamo comportare con timore durante il tempo del nostro soggiorno terreno il timore è qualcosa che è dovuto ed è qualcosa che ci porta a svolgere anche un servizio che a dio è gradito sì perché samuele non invita soltanto il popolo a temere il signore ma anche a servirlo fedelmente con tutto il cuore serviamo il signore abbiamo dei talenti che dio ci ha dato mettiamo la disposizione del progresso dell'opera di dio serviamo il signore serviamolo perché è qualcosa di buono è qualcosa di gradito ed è qualcosa che porta gioia nelle nostre vite un cristiano che non serve non può mai essere veramente felice potrà forse farsi delle grasse risate ma poi nel cuore tornerà di nuovo il buio e il senso di tristezza ma quando serviamo il signore con tutto il nostro cuore la gioia del signore diventa la nostra forza e noi ci sentiamo approvati e quindi appagati e di conseguenza continuiamo a dare gloria al nome del nostro dio servite il signore diceva samuele e servitelo con tutto il cuore perché il servizio a dio non deve essere svolto o in modo svogliato in questi casi la parola di dio parla addirittura di una maledizione che riposa su quanti servono il signore fiaccamente noi vogliamo servire il signore invece con tutto il cuore con zelo con fervore perché amiamo il signore e non lo facciamo contro voglia ma lo facciamo perché egli ci ha talmente amati da dare il suo figlio per la nostra salvezza lo facciamo perché abbiamo davanti a noi ben chiare le grandi cose che egli ha fatto il nostro favore ci ha amati mandato il suo figlio a morire sulla croce ci ama provvedendo alle nostre necessità giorno dopo giorno e preservandoci dal male ci ama e ci ha preparato un luogo dove presto andremo ad abitare per vivere con lui per l'eternità un luogo dove non ci sarà più pianto né dolore né grido né malattia nulla delle cose che ci affliggono amiamo il signore serviamo il signore temiamo il signore ascoltiamo l'esortazione di samuele e allora la nostra vita sarà una vita benedetta e la mano del signore riposerà su di noi e noi ci sentiremo al sicuro qualunque cosa avvenga perché sappiamo che se viviamo se moriamo siamo col signore e del signore che la grazia la pace l'amore e la presenza di Dio ci accompagna ancora oggi Dio ci benedica insieme